Il maggio organistico presenta concerti d'organo e di musica antica. Buonasera e benvenuti a Il maggio organistico presenta. Questa sera ascolteremo composizioni di José de Nebra, sicuramente la figura più importante della musica spagnola della metà del Settecento. Lavorò alla Cappella Reale dove fu nominato primo organista e poi vice maestro nel 1751. A partire dal 1720 Nebra compose moltissime zarzuela per i teatri di Madrid, oltre a diventare un importantissimo insegnante. Questa sera ascolteremo arie tratte da due sue opere liriche, esattamente L'amor aumenta il valore e da Venus i Adonis. Dall'atto sacramentale e il diablo mudo ascolteremo invece l'aria naturalezza umana a cui io lianto. Proseguiremo con arie dal Miserere e dallo Stabat Mater per concludere con l'aria tratta dalla zarzuela, viento, es la dicha de amor. L'aria è solo e l'amor es deida. Non mi resta che augurarvi buon ascolto. L'aria è solo e l'amor è solo e l'amor è solo e l'amor è solo. L'aria è solo e la dicha di sorella, viento, es la dicha di trema. Grazie a tutti. 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 a tutti.